Spazio Webo Live è un programma che abbiamo registrato nelle settimane di marzo ed aprile. Questa caratteristica è che come tutti i locali che in questo periodo non possono fare attività di musica dal vivo col pubblico, abbiamo pensato di registrare concerti in streaming, musicisti soprattutto al 99% pesaresi anche per esigenze di mobilità, però abbiamo pensato di aggiungere al concerto dal vivo il fatto che il concerto, quando va in onda, viene trasmesso dagli studi di Spazio Webo con ospiti anche ai musicisti che hanno suonato, insieme a Meto, Pazzo Perlini e Michele Panziri. In questo modo il concerto in streaming diventa un po' più vivo e non questa cosa un po' ferma e fuori dal tempo a cui ci stiamo abituando in questi mesi. È una rassegna di diversi concerti, ci sono stati registrati e continueranno anche nel mese di aprile, tanti gruppi appunto pesaresi e musicisti, musica improvvisata, poesia, concerti di cantautori, concerti anche di gruppi nuovi come i turisti e i garbino. Insomma un po' tanti passaggi, tanti percorsi per esplorare un po' quello che sta succedendo in questo periodo in cui apparentemente sembra non succedere nulla, invece in realtà stanno ancora succedendo tante cose, un po' come le formiche che scavano sotto. Ecco, Spazio Web Live Streaming, siamo andati giù dentro i formicai della nostra città a vedere che cosa c'è. Vi aspettiamo quindi sullo Sini TV dal 6 aprile, martedì e giovedì dalle 22.15 e poi in replica la maratona delle due puntate settimanali assieme il sabato sera dalle 21.